Stiamo portando a Catanzaro il meglio del teatro contemporaneo italiano, del teatro che l'Italia anche sporta all'estero. Iniziamo sabato 9 dicembre con La Merda, uno spettacolo che ha vinto i premi Oscar del teatro, il Festival di Edimburgo. È uno spettacolo che ha conquistato il mondo, è stato a New York, in Canada, in Brasile, ovviamente ha girato tutta l'Italia e hanno scritto di questo spettacolo il Times e il Paese e adesso viene proprio qui a Catanzaro e continueremo a gennaio con Scena Verticale che è un orgoglio calabrese, poi con Gianmarco Saurino a febbraio, marzo Da soli non si è cattivi che è uno spettacolo di una compagnia straordinaria che è una compagnia che si chiama La Fabbrica prodotta dal teatro Vascello che è uno dei teatri più attivi in questo momento in Italia. Figli di un brutto dio ad aprile, compagnia Musella Mazzarelli, è uno spettacolo straordinario di questa compagnia che ha appena vinto il premio Istrio e i premi Ubu del teatro. Concluderemo con Le vacanze dei signori Lagonia, uno spettacolo di un artista catanzarese premio Ubu che ha vinto tantissimi premi e è stato in giro in tutto il mondo. Questo spettacolo è uno spettacolo in catanzarese che però a Catanzaro non c'è mai stato, io l'ho visto a Roma, è uno spettacolo straordinario. Francesco Colella in Le vacanze dei signori Lagonia e continueremo con Forte Braccio Teatro, il Cantico dei Cantici, spettacolo peraltro candidato ai premi Ubu di quest'anno.